Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire il subwoofer Vulcano Sub6 che fa parte della stessa linea di prodotti dei diffusori A4 Arc, sempre Vulcano, che ho provato nello scorso video. Se vi siete persi la recensione di questi diffusori dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, potete cliccare sul banner in alto a destra per poter andare al video. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non volete perdervi le prossime recensioni, ma ora procediamo subito con l'unboxing di questo subwoofer. Una volta aperta la scatola, troviamo il retro del subwoofer, che è protetto da due protezioni in schiuma plastica. Andiamo ora a sfilare la scatola di cartone, che contiene un'ulteriore scatoletta in cartone e anche una busta con un cavo e il manuale. Dentro la busta troviamo il manuale, che comprende anche la lingua italiana, e poi un cavo mini jack RCA. Dentro la scatoletta di cartone troviamo invece l'alimentatore, che è da 21V 1,5A per una potenza totale di 31W. Infine andiamo a togliere le protezioni dal subwoofer e rimuoviamo anche il sacchetto in plastica protettivo. Il subwoofer è in legno e la finitura è il vinile nero. La finitura è realizzata molto bene e il subwoofer si presenta molto compatto, ma di piacevole aspetto. Andiamo ora ad analizzare tutte le parti del subwoofer. Il pannello frontale si presenta molto pulito. L'unico elemento che troviamo infatti è il condotto reflex, che è di buone dimensioni, e in alto troviamo anche un piccolo logo dell'azienda produttrice. Sul lato destro del subwoofer troviamo l'altoparlante, che è protetto da una tela, ed è un altoparlante da 6,5 pollici. Possiamo quindi facilmente intuire che la parete frontale dove c'è lo sbocco reflex e la parete laterale dove c'è il woofer devono essere lasciate libre, quindi non possiamo addossarle al muro. Andiamo infine a vedere il pannello posteriore del subwoofer, che presenza tutte le connessioni. E in particolare troviamo un potenziometro per il volume, che ci permette di regolare appunto il volume, ma anche di spegnere e accendere il subwoofer tramite una pressione prolungata, mentre con una breve pressione possiamo andare a cambiare l'ingresso utilizzato dal subwoofer. Poi troviamo il potenziometro low pass, che permette di regolare il taglio in frequenza del subwoofer. Quindi possiamo scegliere in che range di frequenze far funzionare il subwoofer. Se mettiamo il potenziometro al massimo, il subwoofer lavorerà dai 250 Hz in giù, mentre se lo teniamo al minimo dai 60 Hz in giù. Poi troviamo un'uscita RCA stereo, che serve a collegare ulteriori diffusori, o un amplificatore che poi è collegato a dei relativi diffusori. Sotto di essi abbiamo poi invece i connettori RCA per l'ingresso audio. Come ultimo ingresso fisico abbiamo poi l'ingresso digitale ottico. Ho specificato ingresso digitale fisico, perché come ingresso digitale c'è anche il bluetooth. Già dall'analisi del pannello delle connessioni, possiamo dire che ci sono due tipi di collegamento per questo diffusore. Il primo è quello che consiglio di utilizzare con i diffusori Vulcano, o comunque in generale dei diffusori attivi che hanno anche un'uscita sub. In questo caso andremo a collegare l'uscita sub dei diffusori attivi, o di un amplificatore nel caso abbiamo dei diffusori passivi, a uno dei due connettori RCA in ingresso. Indifferentemente destro o sinistro non è importante. Se abbiamo due uscite sub o un'uscita pre-out, possiamo collegarli entrambi. Comunque è totalmente rilevante se collegate l'uscita sub al canale destro o al canale sinistro, perché poi entrambi i canali vengono sommati all'interno dell'amplificatore e del subwoofer, quindi potete scegliere tranquillamente a caso. Con questo tipo di collegamento quindi il segnale arriverà dall'amplificatore o dai diffusori che stiamo utilizzando. Il subwoofer prenderà solo le basse frequenze, in base a come abbiamo regolato il potenziometro low pass, e le amplificherà. Con questo collegamento non andremo mai a utilizzare l'ingresso ottico e l'ingresso bluetooth, e io ritengo che sia il modo migliore per collegare questo subwoofer. L'altro tipo di collegamento che possiamo fare con questo subwoofer consiste nell'utilizzare il subwoofer stesso come ricevitore del suono. Quindi possiamo utilizzare l'ingresso bluetooth oppure l'ingresso ottico o anche l'ingresso classico analogico RCA, e poi utilizzare una coppia di cavi RCA che verranno collegati all'uscita audio out, e verranno collegati a dei diffusori attivi oppure a un amplificatore che poi sarà collegato a dei diffusori passivi. Il grosso limite che ha questo tipo di collegamento è che dobbiamo andare a utilizzare il potenziometro del volume per regolare il volume generale di tutto l'impianto audio, ed è molto scomodo perché si trova appunto dietro al subwoofer, che non ha il telecomando. Mentre con il primo collegamento saranno i diffusori principali a regolare il volume per il subwoofer, il che è molto più comodo. Andiamo ora a smontare il subwoofer per vedere cosa c'è all'interno. Rimuovo per prima cosa il pannello posteriore. Da qui possiamo vedere meglio la scheda elettronica che è incollata al pannello posteriore, e che si occupa di processare e amplificare il segnale e mandarlo al woofer. Sulla scheda sono presenti alcuni chip, di cui però non conosco bene le specifiche. Possiamo però dire che il chip che si occupa dell'amplificazione è quello a sinistra, infatti sotto di esso possiamo entrare a vedere il dissipatore di calore. Altra cosa interessante che possiamo trovare è un ingresso USB, che presumo sia un ingresso USB di servizio dedicato magari all'aggiornamento del firmware del diffusore. La scheda è molto compatta ma si presenta abbastanza bene. Purtroppo non sono riuscito a smontare la tela davanti al woofer e di conseguenza neanche il woofer, però quest'ultimo si può entra a vedere dall'apertura posteriore dove è alloggiata la scheda. Possiamo notare che il magnete è di buone dimensioni e che il cestello del woofer è realizzato in materiale metallico, penso alluminio. Prima di passare alla parte di misurazioni diamo un'occhiata veloce alle specifiche tecniche che ci fornisce il costruttore. Abbiamo un'indicazione della dimensione del subwoofer che è di 6,5 pollici, poi un'indicazione della potenza che è di 60 Watt rms, in realtà è impossibile che la potenza sia di 60 Watt rms e continua, in quanto l'alimentatore che alimenta il subwoofer ha una potenza di 31 Watt, quindi la massima potenza che ha questo subwoofer è di 31 Watt. Poi ci dice finitura nera e poi la risposta in frequenza che va da 40 Hz a 250 Hz, cosa che poi verificheremo in seguito con le misure. E poi la frequenza del crossover che va da 60 Hz a 250 Hz, poi abbiamo le dimensioni 32 cm di altezza, 16 cm di larghezza, 32 cm di profondità e il peso di 3.7 kg. Passiamo ora alla parte delle misurazioni acustiche, misurazioni che sono state fatte nella mia stanza di ascolto, che è una stanza di circa 25 m2, con il subwoofer posizionato lontano dai muri e circa un terzo della lunghezza della stanza. Il primo grafico ci mostra la risposta in frequenza del subwoofer, in particolare la curva azzurra rappresenta la risposta quando il potenziometro del controllo del crossover è impostato al massimo, quindi a 250 Hz. La curva fucsia indica invece la risposta in frequenza quando il controllo del crossover è posizionato al centro, mentre la curva blu indica la risposta quando il potenziometro del controllo del crossover è posizionato al minimo, quindi sui 60 Hz. Come possiamo vedere dal grafico, la reale risposta di questo diffusore parte all'incirca dai 50 Hz, e nel caso in cui la frequenza di crossover è impostata al minimo arriviamo circa agli 80 Hz, mentre quando è impostata al massimo arriviamo circa ai 150-170 Hz. Considerate le dimensioni e il prezzo del subwoofer, la risposta è accettabile. Ovviamente non è un subwoofer che ci fa tremare i vetri o ci dà quella sensazione di basso profondo. D'altronde dalla fisica non si scappa, per avere quelle sensazioni è necessario utilizzare un cono più grande o più performante e sicuramente delle dimensioni del box maggiori. Quindi io questo diffusore lo abbinerei a diffusori molto piccoli che fanno fatica a scendere in frequenza, come ad esempio dei diffusori con un cono da 4 pollici, 3 pollici, 5 pollici al massimo. Con diffusori dal cono da 6 pollici in su, l'inserimento di questo diffusore mi sembra abbastanza inutile, in quanto i diffusori saranno già in grado di scendere circa verso i 50 Hz. L'ideale quindi è l'abbinamento con diffusori di piccole dimensioni, come possono essere gli A4 ARC, sempre della casa Vulcano. In questo grafico infatti possiamo vedere le due curve. Quella in viola rappresenta la risposta in frequenza di un diffusore Vulcano A4 ARC senza il subwoofer, mentre la curva azzurra rappresenta la risposta in frequenza dello stesso diffusore, ma questa volta con il subwoofer sub 6 collegato. Come possiamo notare il diffusore da solo si ferma a circa 65 Hz, mentre con il subwoofer riusciamo a scendere circa 50 Hz. 15 Hz di differenza possono sembrare pochi e possono non giustificare l'acquisto di un subwoofer. In realtà quando si parla di basse frequenze quei 15 Hz si sentono molto e la differenza è molto percepibile quando si accende o si spegne il subwoofer. Come ultimo grafico sono andato poi ad analizzare la risposta in frequenza dell'uscita RCA del subwoofer, quindi l'uscita che andrebbe poi ai diffusori nel caso in cui scegliamo il secondo tipo di collegamento. Come possiamo vedere, come giusto che sia, i bassi sono attenuati di circa meno 3 dB a 30 Hz, in modo che la potenza che arrivi ai satelliti sulle basse frequenze sia minore. Poi il resto dello spettro audio è molto lineare, tranne verso l'estremo acuto, infatti la risposta crolla attorno ai 16 kHz. Veniamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda il suono di questo subwoofer devo dire che non è eccezionale. Non è un subwoofer che ti fa tremare i vetri, non è un subwoofer che ti dà un impatto sonoro quando senti una nota di basso, però nel suo piccolo, sia per quanto riguarda le dimensioni e per quanto riguarda il prezzo, riesce veramente a migliorare e a rendere più piacevole il suono di tutti i mini diffusori, quindi diffusori molto compatti con il cono da 5 pollici, 4 pollici, 3 pollici, tutti quei diffusori che non riescono a scendere in frequenza, si fermano magari ai 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz. Questo riesce a estendere la gamma bassa fino ai 50 Hz, restando comunque alla fine un piccolo parallelepipido che possiamo nascondere nel nostro ambiente d'ascolto. Se invece abbiamo già dei diffusori da pavimento o dei diffusori da scaffale ma con un woofer grandi, per esempio 6 pollici e mezzo o più, a mio avviso è inutile andare a prendere questo subwoofer perché non ci porterà dei miglioramenti, anzi ci andrà a sporcare ulteriormente il suono. Potrebbe funzionare bene e risultare molto utile, magari anche una soundbar con un'uscita subwoofer. Io personalmente l'ho provato e abbinato con i diffusori sempre Vulcano, i diffusori A4 Arc, e devo dire che il suono è migliorato molto, si percepiscono meglio le note basse e in generale il suono risulta essere più rotondo, più piacevole. Il basso che esce da questo subwoofer, come vi ho detto prima, non è molto profondo e inoltre non è neanche molto controllato, però è comunque molto piacevole. Potrebbe essere interessante andare a provare il fratello maggiore di questo subwoofer, il sub 8, che ha delle dimensioni molto più grandi rispetto al sub 6 che ho provato in questo video, e inoltre ha anche un cono da 20 cm, quindi da 8 pollici, più grande rispetto a questo. E in particolare, ora che sto registrando questo video su Amazon, il sub 8, quindi il fratello maggiore, si trova in offerta su Amazon a 108€, mentre il prezzo di questo sub 6 è di 99€. Quindi se mentre state guardando questo video, l'offerta è ancora valida, per i 9€ in più vi consiglio vivamente di prendere il sub 8, anche se non l'ho provato guardandolo. Io andrei a optare per quello che mi sembra molto più performante. Comunque se siete interessati a una recensione del sub 8, scrivetemelo nei commenti, che cercherò di fare il possibile per testare anche questo subwoofer. Quindi vi ricordo anche di iscrivervi al canale, vi basta premere il logo basso a destra, e poi il tasto iscriviti. Per quanto riguarda le note d'uso, devo dire che questo subwoofer potrebbe essere ingegnerizzato meglio. Vi spiego. Non è presente una funzione di auto on o auto off. Questa funzione permette di accendere il subwoofer quando riceve un segnale, e di spegnerlo dopo un certo periodo di tempo in cui non riceve segnale. Questa funzione non è presente, quindi il subwoofer rimane sempre acceso, e quindi tutte le volte che vogliamo utilizzarlo è necessario accenderlo tramite il potenziometro posteriore e spegnerlo quando abbiamo finito di utilizzarlo, e la trovo una cosa molto scomoda. Avrei preferito avere la funzione auto on o auto off, o almeno un'integrazione con i diffusori da sempre della Vulcano, quindi magari un ulteriore cavo che si potrebbe collegare al subwoofer che permetterebbe di accenderlo e spegnerlo insieme ai diffusori. Per il resto il subwoofer è molto compatto, quindi facilmente posizionabile nella sala d'ascolto, e si può anche nascondere. È necessario però non accostare al muro il lato in cui è presente il woofer e il lato in cui è presente lo sforo reflex. Veniamo ora ai soliti voti finali. Per quanto riguarda la potenza ho dato un 7, perché non abbiamo una grandissima potenza, ma quella che abbiamo ci permette tranquillamente di ascoltare le note basse a volumi abbastanza alti. Per quanto riguarda la risposta in frequenza ho dato un 6, visto che la risposta si ferma intorno ai 50 Hz, che comunque tenendo conto delle dimensioni e del prezzo è buono. Per quanto riguarda il suono ho dato un 6,5. Al design ho dato un 7, visto che le forme non sono particolarmente originali, però la qualità costruttiva è alta, e il fatto che sia molto compatto ci permette di integrarlo facilmente nell'ambiente di ascolto. Per la versatilità ho dato un 7, Infatti da un lato è molto versatile per quanto riguarda la connessione bluetooth e l'ingresso ottico se vogliamo collegare poi i due satelliti, ma dall'altro lato ci manca una funzione di auto on o off che ci semplificherebbe molto la vita. Infine per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo ho dato un 7,5. visto che è considerato il prezzo di 99€ ad oggi che sto registrando il video su Amazon, comunque abbiamo un subwoofer delle dimensioni molto compatte che si presta perfettamente a migliorare il suono di soundbar oppure di diffusori dalle piccole dimensioni. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video, vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle nuove recensioni che pubblicherò. Grazie e al prossimo video! Grazie a tutti!